Le goffre. Le goffre sono le cialde, le waffle meglio conosciute. Un goffre è un gatto legger qui entro di placca metallica ornée da motifs quadrille che si imprime dalla patte e donne alla goffre son dessin caratteristiche. Le goffre è l'appareil che serve preparare le goffre. Un goffre è un dolce leggero cotto fra due pacche metalliche ornate di un motivo quadrettato che si imprime nell'impasto e dà alla cialde il suo disegno caratteristico. È un piatto tipico del Belgio, dei Paesi Bassi, del nord della Francia e delle regioni alpine italiane. Il goffre, quindi la cialdiera, è l'apparecchio che serve a preparare le cialde. Andiamo adesso alla pagina 30 del libro. Le goffre Sono dei patisserie leggere fatte con un pet fluido alla quale un aggiunto della levure, di uber e di parfum, vanille, fleur d'oranger, cannelle o zest d'agrium. È messo un pacuito fur, ma all'aide d'un goffrier, mulle de plaque de fer, plus ou moins alveolée, proprio alla blument chauffée. Le waffle, le cialde, sono dei pasticcini leggeri fatti con una pasta fluida alla quale si aggiunge del lievito, del burro e delle essenze, vaniglia, fiori d'arancio, cannella o scorzette d'agrumi. Non sono cotte al forno, ma con l'aiuto di una cialdiera. Uno stampo a due placche di ferro, più o meno alveolati, precedentemente riscaldato. La presentazione del goffre continua. Rempli le blanc avec les ingrédients utilisés pour la réalisation. Cassonade, che sarebbe lo zucchero di canna. La confiture, la confettura. La creme, la panna. Miel, il miele. Sucre, zucchero. Vin, vino. La composizione del goffre varie selon le regione, car la goffre est une specialité paisanne, courante e ancienne. «Elle sono consom Blood » recouverte de glace, de ou de fraiche, ou, più recherchée, avec et aromatisée. Celles du nord de la France et de la Belgique sont vendues dans le fête locale, le foire et les marchés, tout comme les brigidines italiennes et les crumquakers suédois. La composizione delle cialde varia secondo le regioni, poiché la cialda è una specialità contadina, comune e antica. Sono consumate semplicemente ricoperte di o di fresca, o più ricercate, più particolari, con aromatizzato. Quelle del nord della Francia e del Belgio sono vendute nelle feste locali, nelle fiere e nei mercati, così come i brigidini italiani e i grumquaker svedesi. Le gaufre le più congno sono celli di Liège di Bruxelles. Ici, on a l'image. Celle del Liège sono a gauche, celle del Bruxelles a droite. La gaufre de Liège contient du sucre perlé all'interiore che lui confère un goût irresistibile. Sa pâte è épaisse. La gaufre de Bruxelles è celle des fêtes foraines. Elle è blonde e légère. Sa pâte è liquide. Quindi, le cialde più conosciute sono quelle di Liège e Bruxelles, dove si trovano queste due città. Si trovano tutte e due in Belgio. La cialda di Liege contiene dello zucchero perlato a palline all'interno, che gli conferisce un gusto irresistibile. Il suo impasto è spesso. La cialda di Bruxelles è quella dei parchi di divertimento. È bionda e leggera e la sua pasta è liquida. Per ogni goloso esiste la sua cialda. Pour Jacques Gourmand, existe sa gaufre. Bon appétit!